Siamo con Corrado Bungaro, il direttore della scuola musicale dei quattro vicariati, opera prime. Dottor Bungaro, Vivi Ala, una app che risponde a esigenze precise delle associazioni e che sembra possa diventare veramente uno strumento di collaborazione e di organizzazione messo a disposizione dal comune di Ala. Mi sembra un'ottima idea e anche un decisivo passo avanti nelle relazioni fra l'istituzione comune e tutte le realtà del territorio, le associazioni, anche non solo le associazioni e come è stato detto nell'incontro tutti i cittadini che siano responsabili, che siano motore di eventi culturali sul territorio e che possano in maniera più agevolata proporli attraverso questa piattaforma che utilizza un linguaggio, una metodologia assolutamente contemporanea per raggiungere il più possibile tutti. Grazie per la visione! Grazie per la visione!